L'uomo è schiavo delle apparenze mentre Dio conosce la verità. Lo ha detto Papa Francesco durante la messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta. Nel corso dell'Omelia, incentrata sulla prima lettura che narra l'elezione del giovane Davide al re di Israele, il Pontefice ha chiarito che anche nella vita dei Santi ci sono tentazioni e peccati, ma che nella misericordia del Padre c'è sempre speranza per un futuro diverso. Tutti noi siamo scelti, siamo stati scelti dal Signore per il Vatessimo, per essere nel suo popolo, per essere santi, siamo stati consecrati dal Signore in questo cammino dalla santità. Soltanto leggendo questa vita, da un bambino, no, bambino no, è un ragazzo, da un ragazzo a un vecchio, 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 che ha fatto tante cose buone e altre non tanto buone. Mi viene di pensare che nel cammino cristiano, nel cammino che il Signore ci ha invitato a fare, mi viene di pensare che non c'è alcun santo senza passato, neppure un pecatore senza futuro.